e c'è un dislivello rispetto al gretto del Cellina e lì ci sono 3-4 metri di dislivello più o meno 3-4 metri e li vede lì sospesi subito al di là del guardrail subito dopo la fine del ponte c'è la curva a sinistra ma più avanti in pratica questi esseri hanno allora lui si trova a circa se non ricordo male a un paio di metri di distanza da questi esseri uno è rivolto verso di lui l'altro è rivolto verso il Monte Raut vi è un effetto sulla macchina in quanto perde colpi non riesce a va a passo d'uomo insomma la macchina pur avendo il piede completamente premuto sull'acceleratore la paura è tantissima ha detto che sudava freddo aveva i finestrini abbassati perché siamo 2 settembre quindi ancora estate era una serata una nottata bella con una certa temperatura piacevole la testa è grande hanno uno strano copricapo al posto delle mani vede dei fasci di luce al posto delle gambe vede dei fasci di luce un corpo pensate voi quindi siamo a un racconto ai confini della realtà raccontato da una persona che indossava una divisa di tutore dell'ordine pubblico che ricordava quella di un crostaceo e quindi lui piano piano o meglio sì la macchina piano piano come dire si allontana dall'effetto provocato da questo da questo fenomeno va e quindi prende subito velocità e ad un certo punto finito sta finendo il racconto dice allo zio si rivolge allo zio in macchina caro zio quell'uomo ero io io tu fa lo zio e quindi come dire non ce la fa a non a non a non dire è a me che è capitata questa cosa così per chiudere la questa ah lo zio che era arrivato da Roma esattamente che lui non voleva far sapere lui parlava di questa in terza persona esattamente ad un certo punto lui raccontava da tutore dell'ordine quello che qualcuno gli poteva aver denunciato non ce l'ha fatta e poi ha detto quella persona sono io e lo zio replicò immediatamente tu cioè meravigliato noi poi ci siamo fermati lì al Ponte Giulio abbiamo ho fatto un sopralluogo ma così anche abbastanza approfondito ma non ho trovato alcuna alcuna come dire alcuna traccia visibile del del fenomeno sono arrivato a casa sua mi ha parlato la moglie la moglie mi ha raccontato lo stato psicologico in cui il marito arrivò quella notte e una cosa dice che io non ho mai visto mio marito poi bere super alcolici a una certa ora e così via io ho fatto una domanda all'ex maresciallo di polizia ferroviaria perché arrivato a Vajont non c'erano i cellulari non ha telefonato ai suoi colleghi della polizia si dice chiamola i miei colleghi della polizia arrivano i miei colleghi quelli non ci sono più addio carriera sono guardate dire di aver assistito a fenomeni particolari si può rientrare nella casistica oramai assodata di visionari allora siccome io non sono un visionario non mi ritengo un visionario sono peggio del vostro santo maso che se non ci mette il naso non ci crede vi racconto quello che io ho assistito perché è molto facile altrimenti ascoltare e sorridere e lo dico per la prima volta anche al professor Chiumiento ah si? benissimo è una storia questa ed è una storia è una storia che risale a tantissimi anni fa quando io ero molto più giovane avevo una moglie giovanissima lo è tuttora ma avevo anche dei bambini piccoli avevo il ragazzino che allora aveva 11 anni e la bambina che ne aveva che ne aveva 6 ci rechiamo da Pordenone è sera una sera d'estate ci rechiamo da Pordenone in una località montana meglio sulla pedemontana volevamo andare a fare una visita così senza preavviso ai miei suoceri ci rechiamo nella casa entriamo il cancello automatico entriamo nel grande giardino e notiamo che la vettura di mio suocero non c'è come non c'è mia suocera erano andati a ballare era un sabato erano andati a ballare a quel punto siccome in quella zona ora non più ma a quei tempi non c'era l'inquinamento diciamo così no legato all'illuminazione e quindi riuscivi a vedere tutte le stelle del creato e quindi siamo messi a guardare le stelle questo venticello rispetto a Pordenone ad un certo punto abbiamo notato abbiamo notato una luce intensa in cielo di un centimetro due centimetri di larghezza che arrivava da nord e si è posizionata sopra perpendicolare a noi ma vedevi insomma i due centimetri di questa luce tant'è che io ho detto il satellite è un satellite sai perché nelle notti d'estate chiare riesci a vedere anche i satelliti che passano sì per farle in breve come dice lui ad un certo punto da sud-est da nord-est da nord-ovest è arrivato un altro segno diciamo un'altra isola illuminata del cielo è arrivata a gran carriera e si è posizionata a fianco di quella che attendeva così così da nord-est così da sud sud-est e sud-ovest interessante riuscirono tutte queste luci a creare un circolo distante diciamo un circolo tra loro una e mezzo poi una due tre quattro creando creando poi una specie diciamo così di forum l'ho definito ridendo a miei figli interstellare perché anche loro si chiedevano che cos'era io chiedevo e io per non stare lì a raccontare sì è un forum interstellare sono i nostri piloti che stanno sono rimasti con il naso in su per circa cinque minuti e dopo cinque minuti come sono arrivati sono partiti con la stessa direzione originaria UFO oggetti volanti non identificati aerei supersonici che sono arrivati si sono fermati si sono bloccati io non lo so io quello che ho visto ho raccontato è un fenomeno molto molto strano quello che ho visto ho raccontato con me c'era mia moglie e i miei due figli che possono certo perché ogni tanto ci mettiamo a ridere e lo raccontiamo con questo è un fenomeno strano sì è ovvio però non è che tu non lo sapevi perché non te lo avevo mai non te l'ho mai raccontato ieri certamente che io sappia non si possono affermare nemmeno io sì che io sappia che io sappia nemmeno io e poi da quello che tu hai descritto ben descritto perché ti rimane c'è un comportamento intelligente fra virgolette di queste cose ti ho detto sembrava un forum interstellare sembrava che fossero arrivati questi aerei chiamiamoli aerei con personalità dello spazio per un forum invece di andare a Bruxelles o a New York si sono trovati i vari capi di Stato in cielo e gli aerei fermi tutto qua ma erano aerei fra virgolette io direi certo perché erano luci bianche non intermittenti per fermarsi l'aereo non può questo vi ho raccontato è vero non è vero no 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 io l'ho raccontato e questo perché per incoraggiare quelle persone che ci stanno ascoltando e che magari hanno avuto delle situazioni al di fuori del normale che non significa credere negli alieni o negli UFO ma ci sono situazioni anormali a raccontarle a raccontarle al professor Chiumiento ovviamente per avere per avere no ah prometto non bevevo allora e non bevo ora e quindi non fumavo allora e non fumo ora spinelli o quant'altro quindi anche questo ci conosciamo da tanti anni mamma mia quindi togliamo togliamo perché poi ti dicono così no cosa te bevo allora io comunque grazie questo ringrazio io personalmente per il fatto di aver raccontato questa tua esperienza che come sottolineo ha una certa stranezza la credibilità non se ne parla nemmeno per quanto mi compete tornando al Ponte Giulio parliamo di 28 anni fa però il ricordo è vivo è vivissimo ricordo certo che è vivo l'ho vissuto in prima persona l'abbiamo vissuto in quattro e quando ora mi ritrovo io con mia figlia che abita all'estero ogni tanto tiro fuori e ci mettiamo a ridere però il ricordo è vivo in tutti e quattro ecco io vorrei se mi è permesso prendere l'occasione del Ponte Giulio e dire e i carabinieri siamo negli anni 80 no? nei primi anni 80 io ero diventato c'è un motivo perché ho detto e i carabinieri punto interrogativo ma potrei anche dirlo subito mi vengono in mente come dire la benemerita arma in quanto loro hanno l'incarico preciso che viene da Roma di raccogliere le segnalazioni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati e trasmettere per l'appunto un determinato ufficio a Roma io nei primissimi anni 80 quindi 81 82 83 ero diventato fra l'altro anche responsabile dei cosiddetti fenomeni aerei non identificati anomali non identificati del gruppo astrofili portenonesi tant'è che in 81 82 tu facevi delle trasmissioni da noi in via Caboto perché la televisione nacque nel 1980 81 e tu avevi iniziato anche a fare e ti dirò di più siccome visto che apriamo una parentesi ma poi ritorno al discorso siccome sto preparando la ristampa di alieni tra noi di cui avevamo parlato la volta precedente il caso del signor Pastrovicchi eh sì del signor mi sto sbagliando il cognome del signor Sergio allora ho visto nella mia documentazione che la lettera nel fascicolo di questo caso che è contenuto dentro alieni tra noi la lettera l'aveva scritta a Tele Pordenone via Caboto poi questa lettera mi fu consegnata e io andai sul posto sì dove il signore risiedeva per fare l'indagine ecco guarda ho bevuto proprio la lettera pochissimi giorni fa fra le mani allora torniamo a noi allora io sono appunto inserito nel gruppo Astrofili Pordenonesi se mi è permessa la battuta fino a quando gli UFO non erano argomento di vergogna nei confronti della cosiddetta astronomia ufficiale e lì conosco il capitano Papalardo capitano Antonio Papalardo sensibile alla tematica degli UFO in quel periodo era comandante suo superiore il tenente colonnello Patti perché il comandante è il nucleo operativo oggi è il generale Papalardo quel generale Papalardo che abbiamo visto durante l'arrivo degli immigrati a Lampedusa che è diventato sostenitore dei Lampedusani insomma ecco però già anche onorevole della Repubblica Italiana ecco questo capitano Antonio Papalardo è sensibile alla tematica degli UFO allora un giorno non mi ricordo bene se io gli ho chiesto ma capitano perché lei è sensibile agli UFO o lui si è aperto con me guarda caso Ponte Giulio ma che cos'ha in quanto lì nelle vicinanze del Ponte Giulio abbastanza vicino Montreale e Valcellina ci sarebbe un punto di appoggio sotterraneo del Ponte Giulio